Salve, sono Mauro Turreini. Con questo video annuncio la nascita di alcuni servizi. Propongo delle conferenze, dei training, delle lezioni che vogliono portare i destinatari a cui saranno proposti e coloro a cui verranno proposti e coloro che parteciperanno, porteranno a cambiare qualcosa nella loro esistenza. Sono progetti, sono proposte che si concretizzeranno in momenti di incontro, in lezioni interattive, in momenti in cui i presenti insieme a me vedranno qualcosa che cambia nel lavoro. Ebbene, una proposta di alcune lezioni mirate, precise per aiutare queste persone ad assumere un atteggiamento mentale, costruttivo, che le porti a far esprimere, esplodere la grande creatività, la grande ricchezza che c'è dentro di loro. A 20, 25, 30, 35 anni, uomini e donne devono potersi esprimere al meglio in quelle che sono le loro capacità, le loro passioni e i loro desideri di fare qualcosa di bello per sé e per gli altri nella vita. E una serie di stimoli che proporrò a loro li aiuteranno a modificare innanzitutto l'atteggiamento di persone che vogliono fare della propria vita qualcosa di veramente importante. E sul piano personale, naturalmente, e sul piano professionale. Perché? Perché, come dice quel bellissimo libro, saranno le donne a salvare la madre eterna. ci credo, ne sono convinto. Ne sono convinto e allora penso che le donne debbano crescere nella consapevolezza della loro forza, della loro capacità, del loro talento, della loro empatia assolutamente unica, della magia che c'è nel loro essere, nel loro comunicare. Devono solo trovare maggiore sicurezza in se stesse, nelle proprie possibilità, a credere maggiormente nella loro forza e nel loro genio. Anche qui una serie di training, di conferenze che porteranno le donne che saranno presenti, che parteciperanno, a realizzare qualcosa innanzitutto a livello di atteggiamento mentale. A costruire un approccio nuovo al loro modo di essere per per sé e di prospettiva di crescita per queste persone che svolgono una responsabilità, una leadership. E essere leader è il risultato di un percorso che si fa quotidianamente, che comporta delle situazioni che si incontrano. Proporrò una serie di lezioni, una serie di training, di proposte interattive vissute in aula, naturalmente, con i presenti, per mettere a fuoco ciò che è necessario per acquisire una vera capacità di leadership. Stimoli, proposte, soluzioni concrete, percorsi e aspetti su cui lavorare per fare in modo che l'esercizio della leadership diventi un successo per chi l'esercita e diventi vincente per coloro che vivono respirando con queste persone che hanno la consapevolezza di dover dirigere, di dover guidare, di dover esercitare una responsabilità. E soprattutto con la certezza che le persone che vi parteciperanno torneranno e termineranno con il risultato e la consapevolezza di essere persone che hanno una grande ricchezza, che possono esprimerla, che possono donarla, che possono realizzarla per sé e per gli altri. Un augurio per tutto.